Goal! La vita in Marella, l'ambulanza che vola via verso l'ospedale, le cure prontissime apprestate dai medici bolognesi, sono immagini tremende che chiudono un anno vissuto nell'attesa del grande evento, il Mondiale Italiano. Da quel giorno, Lionello Manfredonie, miracolosamente recuperato alla vita nel primo giorno del 1990, è solo un ex grande giocatore. Luce Fiorentina